andremo ad eseguire una classica tolettatura commerciale quelle proprio di tutti i giorni le più richieste quelle le famose tolettature ad orsetto in cui passeremo un rialzo sul corpo faremo le zampe a forbice e la classica testa tonda quella più richiesta anche se non in standard dai nostri clienti da questa posizione andrò a fare l'interno dell'altra zampa sollevo questa e vado a spazzolare l'interno della zampa opposta partiamo da sotto il laccetto e andiamo a sgrossare il lato del collo scendiamo sulla spalla vado a sollevare l'orecchio ma senza tirarlo in modo da non sfalzare quella che è la linea reale e la posizione reale del pelo e vado a tagliare facendo una diciamo curva un semicerchio eccolo qui il nostro johnny è pronto per andare al parco e farci un'ottima pubblicità